L'alba sta sorgendo, salutate il nuovo giorno. Penso che quasi chiunque di voi abbia sentito parlare negli ultimi giorni di referendum di cittadinanza. In poche parole vogliono proporre un referendum al fine di rendere molto più facile l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri. Io oggi non voglio scendere nei dettagli in questo. Sono totalmente contrario e le ragioni le capirete molto facilmente se ascolterete il resto del video. Cosa voglio fare invece io oggi? Voglio proporre una mia legge sulle naturalizzazioni. È un giochino del tipo se io fossi il comandante supremo della nazione in che modo cambierei la legge sulle naturalizzazioni, cioè sull'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di stranieri. Ecco, per parlare di questo dobbiamo parlare prima di alcune cosette e voglio procedere in modo bello ordinato punto per punto. Il primo punto. Io penso che il patrimonio genetico di un popolo sia la più grande ricchezza di una nazione, cioè le caratteristiche di una popolazione date dal suo sangue sono la cosa più preziosa in assoluto per uno stato. No, più delle risorse del sottosuolo, del petrolio, delle pietre preziose, più di ogni altra cosa. Punto 2. Penso che l'intelligenza sia determinata in massima parte dalla genetica. Non è l'unico fattore, lo riconosco, ci sono altri fattori come l'alimentazione e l'ho sperimentato più volte su me stesso, cioè se io cambio dieta, se cambio il mio modo di mangiare, la mia lucidità mentale può migliorare o peggiorare, così come la mia capacità di ragionamento. Per cui, sì, la dieta e probabilmente altri fattori ambientali o culturali possono incidere sull'intelligenza di una persona, ma penso che la massima parte, forse il 75% dell'intelligenza, sia data dal sangue. 3. Penso che i popoli che hanno un'intelligenza media più alta siano quelli che hanno ottenuto più successo nel corso della storia. Se noi andiamo su internet e cerchiamo una mappa che mostra il quoziente intellettivo medio dei vari paesi nel mondo, notiamo che i paesi che hanno influito di più sulla storia dell'umanità siano anche quelli col quoziente intellettivo più alto, mediamente. Detto questo, parliamo adesso della riforma che si baserà molto su questo. La prima cosa da mettere in chiaro è l'obiettivo, cioè qual è l'obiettivo di questa riforma sulla cittadinanza? Ecco, se io fossi il comandante assoluto della nazione, baserei questa legge, ma come tutte le altre leggi, sull'unico parametro dell'interesse nazionale, cioè con questa legge io voglio puntare a fare l'interesse della nazione Italia, del paese, per cui si verranno tralasciate altre cose come l'equità, la giustizia, eccetera. Che poi qual è l'unità di misura matematica della giustizia? Boh, per cui questa legge io la farei con l'obiettivo di rendere lo Stato migliore, più funzionante e più forte, eccetera. Messo quindi che io penso che l'intelligenza sia basata sulla genetica e che i popoli più intelligenti siano quelli che hanno ottenuto più successo nel corso della storia, baserei la legge sulle naturalizzazioni proprio su questo. Cercherei di naturalizzare le persone che andrebbero a rendere il popolo italiano più intelligente, perché più intelligente è un popolo più la nazione ha successo. Per cui cosa farei? Garantirei la cittadinanza italiana solo ed esclusivamente a quelle persone che andrebbero ad arricchire il patrimonio genetico del popolo, quelle persone che andrebbero a rendere il nostro popolo migliore. Per cui uno dei requisiti per me sarebbe avere un quoziente intellettivo superiore alla media. Perché? Perché se noi diamo la cittadinanza a stranieri con un quoziente intellettivo superiore alla media, questo vuol dire che l'intelligenza media di un popolo si alza. Al contrario, se noi andiamo a dare la cittadinanza a milioni di persone che hanno un quoziente intellettivo inferiore alla media, l'intelligenza media del paese si abbasserebbe. E in questo caso, a mio parere, tutto lo Stato funzionerebbe peggio. Per cui, messo che il quoziente intellettivo medio italiano intorno al 105, 104, 103 cambia un po' da statistica a statistica, io metterei come requisito fondamentale per l'acquisizione della cittadinanza l'avere un quoziente intellettivo medio di almeno 105. Poi potrebbe questa cosa andare a premi. Più una persona intelligente, più ovviamente c'è l'interesse della nazione italiana nell'averla per sé. Per cui, a mio parere, dovrebbe essere anche più facile ottenere la cittadinanza italiana da parte delle persone più intelligenti. Sarebbe una riforma sulle naturalizzazioni molto meritocratica. Per esempio, uno dei requisiti al giorno d'oggi per ottenere la cittadinanza italiana è quello di essere residenti sul territorio italiano ininterrottamente per almeno 10 anni. E potremmo per cui partire da qui. Se tu hai un quoziente intellettivo di 105, ecco, necessiterai di un quoziente intellettivo di 105, più la conoscenza della lingua italiana, più una residenza sul suolo italiano di almeno 10 anni. Se tu invece dovessi avere un quoziente intellettivo di 115-120, ecco, per te, che sei una persona più speciale, hai un sangue migliore e ne abbiamo tutto l'interesse ad averti con noi, poi ecco, a te potrebbero bastare 5 anni di residenza sul territorio. E se andiamo ancora oltre, se tu hai un quoziente intellettivo di 130, ecco, a te invece non servirebbe nessun anno di residenza. Ti basterebbe la conoscenza della lingua italiana e ti garantiremmo subito la cittadinanza. Perché abbiamo un forte interesse ad averti con noi. Per casi ancora più estremi, per esempio, per persone con un quoziente intellettivo di 140, ecco, la cittadinanza te la regaleremmo direttamente. Perché anche se non conosci una parola di italiano, noi vogliamo averti con noi. È un po' come nel settore privato, tra le varie aziende, no? Pensiamo ai calciatori. Se una squadra italiana manda qualche recruiter, come si chiama, qualche scout in Sud America, in Brasile, in Argentina e vede un ragazzino fortissimo a giocare calcio che potrà essere il nuovo Messi, ecco, quello stato, a mio parere, dovrebbe dire dateli la cittadinanza subito a quel ragazzino, no? Invece il club privato direbbe, ecco, gli devo fare tutto per riuscire a garantire che il suo futuro sia nel nostro club. Perché farà il nostro interesse. Per cui, come il Barcellona ha preso Messi perché ha capito subito che Messi era speciale e ha capito subito che sarebbe stato nell'interesse del Barcellona avere Messi per sé, ecco, lo stato italiano dovrebbe fare la stessa cosa. Se vede uno straniero che è molto intelligente e speciale, dovrebbe prenderselo per sé, no? È un po' come quando la Germania o la Svizzera o quello che è, si prendono i nostri ingegneri, eccetera. Ecco, ci rubano, diciamo, gli elementi migliori, quelli che probabilmente hanno un'intelligenza genetica più alta. Questa cosa ha anche dei lati negativi. Ovviamente potrebbe fare soffrire tante persone. Uno straniero potrebbe ritrovarsi a nascere in Italia ma avere un quoziente intellettivo basso perché i genitori non erano tanto intelligenti. Ecco, questa persona si ritroverà a soffrire perché non importa quanto vivrà sul territorio italiano, non prenderà mai la cittadinanza. Pace? No. Il parametro di riferimento è l'interesse nazionale, non l'empatia e bla bla bla. Questi sono i punti principali. Se vogliamo fare un piccolo esempio possiamo prendere l'altezza. Se, per esempio, lo stato italiano volesse diventare più competitivo negli sport, principalmente magari la palla canestro o la palla volo, ma anche gli altri, perché è, per esempio, anche nel calcio essere alti al giorno d'oggi. È utile. Cosa potrebbe fare? No. Se noi prendessimo che l'unico interesse del stato italiano fosse diventare migliore nello sport. E lo stato italiano dice, ok, essere più alti ci avvantaggia negli sport. Per cui come faccio per rendere l'Italia più competitiva in questo? Ecco, in questo caso dare la cittadinanza, naturalizzare gli stranieri che sono più alti della media porterà l'altezza media italiana ad aumentare, per cui a renderci più competitivi negli sport. Al contrario, dare la cittadinanza italiana a persone con un'altezza più bassa della media andrebbe a rendere il nostro popolo più piccolo e ci svantaggerà negli sport. La stessa cosa vale con l'intelligenza. Se il nostro stato dà la cittadinanza a persone che sono più intelligenti della media degli italiani, ecco, questo andrebbe a rendere tutto il nostro popolo più intelligente e a garantirgli un maggior successo. Se noi diamo invece la cittadinanza a milioni di persone che hanno un quoziente intellettivo inferiore alla media, ecco che il nostro stato probabilmente andrà a puttane. E questa cosa purtroppo la stiamo vivendo in tanti paesi europei. Se noi facciamo entrare i nostri confini in milioni di persone che hanno poco cervello, le cose vanno tutte a puttane. E questo è. Non sono troppo, non sono entrato troppo nei dettagli, parlando troppo di ogenetica, razza, e cose del genere, altrimenti magari mi bannano per la vita. Però questo è il mio pensiero. Se io fossi a capo del governo farei questo, punterei al cercare di rendere gli stranieri più intelligenti nella media italiani. E al contrario, quelli inferiore alla media, no. In questo modo migliorerei, diciamo, la qualità del nostro popolo. Perché, come ho detto all'inizio, credo fortemente che il patrimonio genetico sia la più grande ricchezza disponibile da un paese. E se noi, dagli altri paesi, dai paesi stranieri, prendiamo gli elementi migliori e li rendiamo nostri, se prendiamo gli stranieri più intelligenti, che sono più, che sono degli individui eccezionali e li facciamo diventare italiani, ci guadagneremmo nel lungo periodo molto più che se noi prendessimo a paesi stranieri il petrolio o le pietre preziose o cose del genere. Che invece, a mio parere, hanno molto meno valore. Questa è la mia visione sulla cittadinanza, sulla naturalizzazione. Poi, ovviamente, ci potrebbero essere tutta una serie di leggi, accessori e regolamenti vari per rendere più facile l'immigrazione a persone straordinarie, invece più difficile l'immigrazione a persone che non sono un granché. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. A me non mi rimane che ricordarvi che quando si desidera ardentemente qualcosa, essere avvolta dalle fiamme non è poi così male.